Ok, sono contento perché finalmente siamo arrivati dopo 1.400 circa chilometri, 1.400 chilometri circa, circa di anni, siamo arrivati con questa macchina, questo mezzo, che non ha deluso assolutamente le aspettative, sia di potenza che di trazione, sia per quanto riguarda la velocità, il comfort bioclimatico interno e altre piccole cose, l'unica cosa è il pacchetto murario, l'unica cosa che è fatto vabbè è il fonoisolamento che risultava scarso, per cui abbiamo un po' le orecchie faticate, Ascio è sempre lì che cerca di pulirsi la mammerda, ovviamente ha di vieto assoluto di rientrare in macchina prima di aver disinfettato le scarpe, 65.000 chilometri, mille sbatti, gente che non ci becchiamo, non ci siamo ancora visti, non riusciamo a incrociarci, scendo dalla macchina, la prima cosa che faccio è stommi. Inutile dire che il gruppo si è diviso per una questione di mobilità, ovvero... No, c'è state divergenze, abbiamo litigato. No, non è vero, problemi di comunicazione, problemi inerenti al fatto che loro andavano a una loro velocità e sono partiti prima, nonostante questo io con un certo orgoglio non vi voglio nascondere che siamo arrivati comunque per primi. E che dire, merito forse di un guidatore sicuramente degno di nota e di uno strumento essenziale come la C2 che non solo mi raggiunge velocità comunque molto smodate, molto al di fuori della portata, diciamo... Nello smodo delle altre macchine. E cerca di metterla qua al... Non ci metto, no, non so no. Vabbè, e... Siamo arrivati, siamo contenti, c'è della bella gente, persone dal fisico invidiabile. C'è asini. C'è la Francesca che è andata un attimo di là in fondo, non so se la vedete. Dov'è, l'ho ferma. Comunque ha avuto la linea e manco se capito che cazzo la cosa. La Francesca ha detto, ha stabilito che in questa terra, tradirà Valerio e i frisani. Sono dei tedeschi, non si sa, dei tedeschi. Prima ha detto che gli piace un pisallo nero, non so cosa si... La banana è nera. E i tedeschi? Ha detto che gli piace... Non gli piace la banana nera ma gli piace il nero della banana. Non gli piace... No, com'è che era? Non gli piace il nero della banana ma gli piace la banana del nero. Poi dopo facciamo un taglia e incolla così le mie imperfezioni giuste che non finiranno.